Musica Bello a tutti ragazzi e ben ritornati dal vostro gioco che siamo tornati signori finalmente sul road to snub victory ragazzi Siamo qua oggi finalmente perché l'altra episodio ragazzi vi è piaciuto veramente tantissimo ma oggi non stiamo giocando in modalità veterano Perché nell'ultimo episodio giustamente vi ho detto che giocare in veterano comunque è molto facile la pistolina anche perché con un colpo lo uccidi Io perché ero solo abitato a giocare in veterano quindi mi piace veramente tanto Però oggi ho deciso che questa serie la porterò dal veterano alla partita normale quindi non sarà veterano quindi sarà un po' più difficile per me fare le kill con la pistolina Ho messo alcuni accessori eccola qua ragazzi Speriamo di farcela ovviamente e speriamo di giocare al massimo Ragazzoni mi raccomando per questo secondo episodio per questo grande ritorno di questa serie lasciate un bel like perché ce ne vuole Ce ne vuole assai Ecco perfetto dai 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 Perché purtroppo in questa partita io laggo un pochino In questa partita laggo un pochino ragazzi non ve lo dico Caciuto mi è scappato così questo Ma è l'allena infatti è difficile ragazzi Ce l'avevate proprio ragione è difficilissimo Però è vero che comunque sto laggando Sto laggando ragazzi Sta cosa non va bene Non va bene per un Kaiser Dai perfetto No l'avevo colpito di nuovo Vai perfetto ragazzi perfetto Vai doppia No porco due Buono buono questo l'abbiamo ucciso Doppia signori perfetto 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 Cerchiamo di stare un attimo Ah l'ho ucciso Buono 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 Una tripla così Easy proprio Chi è qua Stiamo carmi Ma ora così ragazzi Sto un attimo messo qui all'angolio Ragazzi perché qua comunque passa Molta gente E qui è un bel via vai Ecco lì infatti uno Ah qua ho giocato male Io ho giocato male Eh muori però su Eh muori su Che il giocatino non te perdona Cazzo Cazzo ragazzi Ho cercato di fare un tonzinto Un zinto Niente Dai stiamo andando bene Siamo terzi Siamo terzi momentaneamente Siamo a 9 kill ragazzi Provo Provo Non dovrei mai passare qua Ma ci provo Bello Bello No Mortaci su Ma sono Sei rianimato Ma sono stato quello Bastardo Bastardone che non sei altro Ecco là Quanti cazzo sei Da merda Facci vostra Vaffanculo Bello No cazzo 12 ragazzi 12 12 12 12 12 E poi qua sono stato anche a partita già iniziata eh Se non sbaglio Vai giocherino Vai giocherino Mamma mia Mamma mia raga Fermi Fermi Sto a giocare Sto a giocare Sto a giocare da dio raga Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Mamma mia Fermi tutti Buoni 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 20 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 21 21 21 21 21 21 22 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 tutti bello 24 25 25 26 27 siti regale 28 di usanto no porco 28 28 28 raga ho fatto un casino regalo fatto un casino 29 30 30 ragazzi vince giocherino oh mio dio che partita raga mamma mia che partitona beh ragazzoni che dire questo appuntamento potremmeno qua ovviamente abbiamo fatto una partita veramente spettacolare ragazzi io per questa serie voglio portarvi solamente una partita però se voi proprio le volete due partite ve lo fate sapere e arriviamo a 18 mila like ragazzi e il prossimo appuntamento semmai facciamo due partite sfida ragazzoni oggi siamo entrati quasi diciamo poco dall'inizio della partita ma abbiamo stradominato arrivando primi in modalità normale e non era veterano quindi signori veramente giocherino con la pistolina è un fenomeno noi ci vediamo questa sera di 19 con un prossimo appuntamento ovviamente di fifa ragazzi e domani con altri appuntamenti di 14 19 mi raccomando non mancate iscriviti al canale se non siete iscriviti mi fa veramente tantissimo piacere passate nei miei social che trovate qua sotto i link come facebook e la mia pagina instagram ufficiale signori tu venite qua che pubblico le cazzate più immense che posso mai fare ci vediamo nel prossimo appuntamento vostro giocherino ciao signori mamma mia giocherino snub fenomeno bella